Il comandante del Vincenzo e il direttore del Gionale. Siamo i primi ad arrivare, puoi immaginare quello che è stato, era uno strasso. E' il nostro lavoro. E' il nostro lavoro. Grazie per farlo. Sì. E lui era il dottore. E' stato tutto per il tuo lavoro. Grazie per la vostra visione. Noi dobbiamo essere orgogliosi in questa vita. Abbiamo avuto una rete dei sottosso storico, ovviamente, perché c'è la percezione della la preghiera di città sono istituzionale grandissima. E' stato un buon risposto. Gli elicotteristi mi hanno portato i due soccorritori con cui ho parlato. Con i bambini e con la città. Poi voi siete arrivati prima da Sportosanitario. All'ospedale intorno. Grazie per quello che avete fatto. Grazie. Grazie anche ai volontari. Ma in questo momento, a nome del Governo, abbiamo sentito l'esigenza di venire a dare un abbraccio al Presidente della Regione, ai sindaci, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, ai volontari, a chi in queste ore ha dato prova di straordinaria professionalità. Rimane impressa nell'anima di chiunque sia passato da quel luogo l'immagine di ciò che è accaduto e credo che per tutti noi che siamo prima ancora di essere politici, padri, madri, che abbiamo responsabilità, credo che il primo pensiero vada innanzitutto al dolore delle famiglie che hanno perso dei cari. Grazie. 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 Grazie.